Adesso io passerei la parola a Giovanna Giordano che noi conosciamo bene in quanto è la Presidente, è stata fino all'altro ieri la Presidente di Slow Web, laureata in Scienze dell'Informazione, ha lavorato sia in Canada che in Italia nel campo di telecomunicazione informatica e ha fondato nel 2010 Scamotage che è una società di consulenza e di educazione digitale e nel 2017 insieme ad altri ha fondato Slow Web di cui è stata Presidente tra il 21 e il 24, ha scritto anche diversi libri divulgativi e oggi ci parlerà un po' di svariati progetti educativi di Slow Web, però Giovanna io mi devo scusare ma con te lo posso fare perché ti conosco, devi stare in massimo 10 minuti, massimo proprio 10 minuti perché poi dobbiamo ancora far vedere questo trailer e voglio avere il tempo di farlo vedere perché è benissimo. Scusami, scusami tanto, però sei mutata. Eccomi che mi smuto. Allora buonasera a tutti, io prometto che sarò brevissima perché ho sentito delle cose molto interessanti, ho sentito molti temi sui quali assolutamente non voglio ripetermi, ma ho voluto intitolare questo intervento l'educazione digitale non a età perché appunto penso come è venuto fuori da diverse vostre osservazioni che sinceramente non pensavo che ci fosse ancora nei corsi preparto, Marco quando hai detto che aveva fatto espostante i corsi preparto pensavo fosse una battuta, poi ho capito perché. Però volevo portare qualche testimonianza concreta di lavori che abbiamo fatto in questi anni con Slow Web, anche di tanti piccoli progetti, quindi non parlerò dei progetti, quello molto interessante che abbiamo fatto con il Movimento Consumatori per gli educatori, ne ha parlato Rick, non parlerò del corso fatto del CSI, cerco di evitare questi ma volerei portarvi delle esperienze fatte con pubblici di età diverse e soprattutto con un filo conduttore che è quello di utilizzare il digitale non per dividere ma per unire, cioè tutto dove abbiamo avuto la possibilità, e questo poi tra l'altro lo faccio molto spesso anche nella pratica professionale, è la possibilità di sviluppare delle cose insieme, fare delle cose insieme, cerchiamo di farlo perché quello che osserviamo poi nella pratica di tutti i giorni è che c'è una grossa divisione, cioè io vedo costantemente persone anziane che dicono ah ma questo lo fa mio nipote è così bravo col computer quindi non me ne occupo, oppure ragazzini che faccio questo e tanto papà e mamma o i nonni non lo sanno, ecco invece se noi riusciamo tutte le volte che riusciamo a usare il digitale per fare delle cose insieme ma forse anche io tante volte dico ma organizzate le vacanze ma fatelo davanti a un computer con i ragazzini non con quelli di due anni evidentemente ma con i ragazzini un po' più grandi che sia organizzare le vacanze, che sia fare i biglietti di Natale, che sia fare dei ragionamenti più complessi, farlo insieme utilizzando gli strumenti digitali permette di avvicinarsi e poi soprattutto quello che abbiamo notato in molta esperienza che abbiamo fatto insegnando ai ragazzini, i ragazzi più grandi è diverso ma soprattutto i ragazzini età media, quelle cose lì, a fine elementare, se tu stai a fare il pippone te li sei persi subito, mentre se sviluppi con loro delle cose gli fai capire attraverso l'esperienza diretta avevamo fatto qualche anno fa all'inizio di Slow Web, qualche anno fa avevamo fatto l'estate un gruppo di ragazzi non era un'associazione, erano persone, genitori che li avevano portati e le abbiamo tenuto una settimana gli abbiamo fatto fare un film, un video, girare un video che si chiama non si può credere a tutto quello che c'è su internet, il concetto e sul titolo non lo ricordo ci abbiamo fatto sviluppare allora una serie di trucchi, tipo attraverso, posso far vedere che attraverso un muro e quindi i ragazzi avevano fatto queste azioni, un altro vedeva un pezzo degli occhiali su una rivista li prendeva e se li metteva qua, quindi li abbiamo fatto vedere come nel pratico si possono simulare delle situazioni false, non c'era ancora l'intelligenza artificiale, però il videoprocessing si e si sono divertiti molto e hanno capito come certe cose non puoi credere a tutto quello che c'è su internet poi li avevamo fatto lavorare a fare la promozione, avevamo fatto finta di essere un altro televisivo un'altra volta abbiamo costruito un sito che si chiama, è un sito di fake news anche lì se gli dici, gli fa il pippone sulle fake news, dopo un po' le hai persi invece abbiamo detto, noi siamo una redazione e inventiamo delle notizie e inventando poi delle notizie abbiamo fatto notare tutte le cose per cui si capiva che facevamo delle cose false e non eravamo una fonte ufficiale quindi molto lavoro di esperienza diretta che è importante in alcuni casi siamo riusciti a farli insieme avevamo fatto ad esempio un lavoro all'educatore della provvidenza con genitori e nonni da una parte e ragazzini dall'altra quindi avevamo fatto un ciclo di lezioni in cui io mi occupavo degli anziani un altro collega si occupava dei giovani e quindi parlavamo di argomenti che avevamo organizzato in maniera coordinata, i viaggi e le mappe e da un lato con i genitori evidenziando rischi eccetera dall'altra con i ragazzi per fare i percorsi ma era un modo perché avessero degli argomenti per poi parlarne insieme quindi tutto dove possibile cerchiamo delle occasioni di incontro su questo tipo di questo tipo un altro progetto che abbiamo fatto nel 18-19 molto grande avevamo fatto l'educazione digitale degli anziani all'uso dello smartphone insieme a Specchio dei Tempi avevamo come braccio armato di Specchio dei Tempi abbiamo avuto mi ricordo più una roba tipo 700 anziani torinesi che sono venuti a fare i corsi ma è la cosa interessante che avevamo coinvolto ragazzi del liceo quella cosa che cambiano non mi ricordo come si chiama i ragazzi del liceo quella roba lì quindi dato che avevamo un massimo di 10-11 qualche volta adulti per classe insegnare smartphone a tante persone è praticamente impossibile però ci eravamo organizzati con questi ragazzi del liceo ne avevamo sempre due o tre per classe che avevamo formato per fare gli assistenti e quindi giravano nei mezzo ai banchi per aiutare i vecchietti poi avevano delle ore dedicate agli assistenti cioè abbiamo cercato di farli parlare tra loro proprio per creare delle collaborazioni ecco poi con gli anziani abbiamo fatto diverse cose anche l'anno scorso con l'Unitrea Venaria abbiamo fatto degli incontri interessanti anche sui temi della medicina digitale abbiamo parlato di consumo responsabile ai vecchietti perché non era il corso base di istruzione digitale ma alcuni argomenti abbiamo fatto alle conferenze cito brevemente il progetto Tempo Curioso che abbiamo fatto in Valsusa noi ci siamo occupati con le scuole della Valsusa che prevedeva la formazione sia degli educatori sia dei ragazzi questi sono ragazzi delle scuole superiori lì noi ci siamo occupati in particolare degli educatori in maniera un po' simile a quello che abbiamo fatto con voi e appunto per non ruvare altro tempo l'ultima cosa che volevo citare invece la collaborazione che abbiamo con CEPIM che è il centro delle persone di educazione per le persone down affette da sindrome di down che è stata un'esperienza io l'ho vissuta in prima persona devo dire molto coinvolgente e lì abbiamo lavorato su due piani un piano con i ragazzi più giovani proprio sulla sicurezza digitale poi per cercare anche di dare un po' di istruzione adesso quest'anno collaboreremo di nuovo per dare delle istruzioni quelle di avviamento al lavoro la sicurezza, l'indipendenza digitale questo con ragazzi diciamo tra i 20 e i 30 anni però durante il Covid è successo che le persone down più anziane sono rimaste completamente isolate perché non sanno nemmeno leggere e scrivere mi hanno spiegato che l'approccio educativo influisce molto su come poi si comportano per cui immediatamente appena abbiamo potuto a fine del Covid ci hanno coinvolti per fare e insegnare a queste persone a potersi collegare con il mondo e quindi mi sono trovata a insegnare a persone che non sapevano leggere e scrivere ma siamo riusciti con dei tablet molto semplificati a fare in modo che ancora dopo ogni tanto facciamo una call con queste persone per salutarsi e vedere se sono ancora capaci ed è stata una cosa molto coinvolgente io mi fermerei qui così non rubo ulteriore tempo e vi ringrazio tutti per gli inquadramenti che ci avete dato io ti ringrazio tantissimo perché sei stata super speedy ma pur essendo super speedy hai raccontato molto bene quello che Slow Web ha fatto in questi anni e con questo ringrazio anche tutti i partecipanti e faccio due cose uno, anzi tre uno vi dico che naturalmente questo è il sesto DEF e noi ne organizziamo uno ogni anno un altro anno ce ne sarà un altro sarà ancora più bello e più interessante di questo se è possibile quindi stay tuned come dicono in inglese e la seconda cosa è che tutti gli interventi di questo DEF sono stati registrati come voi sapete perché vi abbiamo chiesto il permesso e verrà prodotto un qualcosa tipo questo libro qua che è quello del DEF dell'anno scorso che contiene gli interventi molto interessanti quindi di quello dell'anno scorso e perciò questo libro è in vendita qui alla sede di Frontiere ma anche online lo potete trovare per 15 euro only quindi compratelo perché ha dei contenuti molto importanti e molto interessanti e ancora voglio che sia registrato il ringraziamento veramente di cuore di Slow Web, di Pietro Jarra di tutti noi verso Frontiere, verso Arturo, verso Alfredo e tutti quelli che ci hanno aiutato nella preparazione e organizzazione di questo evento anche Gigliola della comunicazione nostra di Slow Web, insomma tutti quanti soci e non soci, grazie Grazie a tutti